spaghetti al tè verde e wasabi gli spaghetti che vi propongo sono di grano saraceno buonissimi e sicuramente particolari volete stupire i vostri amici con un piatto in stile orientale i suoi pregi principali low fat e gluten free con pochi grassi e senza glutine è una ricetta jolly per le serate a cui vogliamo dare un tocco giapponese magari ascoltando la musica tradizionale rilassante e allora itadakimasu buon appetito in giapponese detto quando si è a tavola ecco come si prepara spaghetti di soba al tè verde ricetta vegetariana per 4 6 persone 15 grammi di foglioline di tè verde 500 grammi di spaghetti di grano saraceno soba 4 cucchiaini di wasabi in polvere 375 ml di soba tsuyu salsa per pasta 4 cucchiaini di daikon grattugiato fresco 1 bollitura dell'acqua in una pentola fate bollire 2 litri di acqua e aggiungete le foglie di tè 2 preparate la pasta aggiungete la pasta e lessatela per 8 minuti circa quindi scolatela mettetela in acqua fredda e lasciatela sgocciolare distribuitela in 4 6 ciotole e fatela raffreddare 3 condimento amalgamate la polvere di wasabi con poca acqua versate la salsa soba tsuyu sugli spaghetti conditela con il wasabi e il daikon e adesso gustatevi gli spaghetti soba al tè verde con wasabi e daikon piccolo ripasso sempre utile come si usano le bacchette proprietà degli ingredienti principali gli spaghetti di grano saraceno sono senza glutine hanno pochissimi grassi molti minerali e danno energia il tè verde è un antiossidante antibatterico è un brucia grassi naturale e aiuta la prevenzione del diabete il wasabi è un condimento antibatterico e digestivo per questo spesso accompagna i piatti a base di pesce crudo il daikon è ricco di fibre aiuta l'intestino a eliminare le tossine ha anche proprietà diuretiche drenanti mangia consapevole e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao